La procura di Caltanissetta ha chiuso le indagini e ora rischiano il processo e 24 indagati nell'inchiesta che lo scorso 14 maggio ha portato in carcere l'ex presidente degli industriali siciliani Antonello Montante accusato di associazione per delinquere in concorso con esponenti delle forze dell'ordine che avrebbero costituito una rete per spiare l'operato di pubblici ministeri. La notizia riportata da Repubblica va verso l'archiviazione invece l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. L'iniziale ipotesi accusatoria non ha trovato alcuna conferma dicono i legali di Antonello Montante, Nino Calega e Giuseppe Panepinto. L'inchiesta è coordinata dai sostituti Stefano Luciani, Maurizio Bonaccorso e dall'aggiunto Gabriele Paci. Nonostante che si trova in carcere a Caltanissetta, Montante da qualche giorno è stato trasferito nel reparto detenuti dell'ospedale civico di Palermo. Ancora aperto il secondo troncone dell'inchiesta, sempre per associazione a delinquere, che oltre a Montante coinvolge l'ex presidente di Sicindustria, Giuseppe Catanzaro, l'ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, gli ex assessori della sua giunta, Linda Vanchieri e Mariella Lobello e alcuni imprenditori. Considerato per anni il simbolo della riscossa degli imprenditori siciliani contro Cosa Nostra, l'ex presidente di Convindustria Sicilia era finito gli arresti domiciliari per avere creato, secondo l'accusa, una rete di informatori per spiare i magistrati che da tre anni lo indagavano per concorso esterno a Cosa Nostra. Per il GIP si trattava di una tentacolare rete di rapporti, un contesto di soggetti legati a doppio filo dallo scambio di favori funzionali di cui fanno parte sia gli indagati sia apicali esponenti delle istituzioni, che ha agito al fine di ostacolare le indagini della procura. Può senz'altro dirsi, scriveva il giudice, come ci sia trovati davanti ad una tentacolare rete di rapporti che dimostra la pervasività del contesto investigativo, è stato estimulare il sistema di protezione che si è alzato attorno agli indagati da parte dei soggetti inseriti ai più alti livelli della polizia, dei servizi di informazione e sicurezza e dell'ambiente politico italiano. Il 9 luglio dai domiciliari Montante era stato traspirato in carcere perché al momento della notifica si era barricato in casa per quasi due ore non aprendo ai poliziotti e distruggendo documenti e circa 24 pendrive. Fino a qualche giorno fa Montante risultava ancora a capo di Union Camere Sicilia.